Ciao a tutti e benvenuti su About Biology. Abbiamo visto negli scorsi video che gli esperimenti sono parte indispensabile del metodo scientifico. Questi però devono essere strettamente legati a delle misure che servono per descrivere quello che stiamo osservando in un modo più corretto ed oggettivo. Lo studio della chimica dipende enormemente dalle misure e per questo la misura e la definizione delle grandezze sono due aspetti importanti della ricerca sperimentale. Un certo numero di strumenti di uso comune ci permette di fare semplici misure delle proprietà delle sostanze. Il metro misura la lunghezza, la pipetta, il cilindro graduato, il pallone volumetrico misurano il volume. La bilancia misura indirettamente, diciamo, la massa, mentre il termometro la temperatura. Questi strumenti forniscono misure di proprietà macroscopiche che possono quindi essere direttamente determinate. Le proprietà invece microscopiche, su scala atomica o molecolare, devono invece essere determinate da dei meccanismi indiretti. Per diversi anni, gli scienziati hanno registrato le misure in unità di misura che potevano differire a seconda del paese di provenienza. Nel 1960, però, la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure propose un sistema metrico modificato, chiamato Sistema Internazionale, abbreviato anche con le lettere SI. Il Sistema Internazionale definisce le unità di misura standard di sette grandezze, che sono chiamate grandezze fondamentali, perché queste sono indipendenti l'una dall'altra. Per ogni grandezza sperimentale è stato scelto un campione di riferimento standard, a cui fanno riferimento tutti i laboratori del mondo. A partire da queste sette grandezze fondamentali, sarà possibile poi ricavare tutte le altre, che pertanto sono chiamate grandezze derivate, e le loro unità di misura si ottengono per mezzo di relazioni matematiche tra le unità di misura fondamentali. La velocità, per esempio, è il rapporto tra una distanza e il tempo impiegato a percorrerla. Si tratta pertanto di una grandezza derivata, che si definisce utilizzando le sue grandezze fondamentali, ovvero la lunghezza e il tempo. Nello studio della chimica andiamo ad utilizzare frequentemente le misure di tempo, massa, volume, densità e temperatura. Prima di analizzarle nel dettaglio, soffermiamoci un attimo sulle grandezze. Le grandezze che descrivono le proprietà fisiche della materia possono infatti essere di due tipi, estensive o intensive. Le proprietà di un materiale, che dipendono da quanta materia viene presa in considerazione, sono dette estensive. Le proprietà che invece non dipendono dalla quantità di materia presa in considerazione sono dette intensive. Come vedremo tra pochissimo, la massa e il volume, per esempio, sono grandezze estensive, mentre la temperatura è una grandezza intensiva. Andiamo adesso ad analizzare queste grandezze nel dettaglio. La massa è per definizione una misura della quantità di materia di un oggetto, o più di preciso, la massa è la grandezza che esprime l'inerzia di un corpo, ed è quindi la misura della resistenza che il corpo oppone a una forza che modifica il suo stato di quiete o di moto. I termini di massa e peso sono stati spesso utilizzati indifferentemente, sebbene si riferiscano in realtà a differenti grandezze. Il peso è infatti la forza che la gravità esercita su un oggetto. Il peso è infatti la forza che la gravità esercita su un oggetto. Una mela che cade da un albero è tirata verso il basso dalla gravità terrestre, mentre la massa della mela è costante e non dipende dalla sua posizione. Infatti, questa stessa mela sulla Luna avrebbe la stessa massa, ma peserebbe un sesto di quello che pesa sulla Terra. C'è da ricordarsi, infatti, che la forza peso è uguale alla massa del corpo per l'accelerazione di gravità, in questo caso G, che equivale a 9.8. L'unità di misura per il sistema fondamentale della massa è il chilogrammo, ma in chimica solitamente viene utilizzato il grammo, e la sua unità di misura è il metro al cubo. Il volume, come la massa, è una proprietà estensiva. Non esistono corpi materiali che sono privi di volume, anche se è possibile che la stessa quantità di materia occupi volumi diversi, come accade, per esempio, quando comprimiamo l'aria in una siringa. In generale, infatti, il volume di un corpo non dipende soltanto dalla quantità di materia che contiene, ma anche dalle condizioni di temperatura e di pressione. Per definizione, quindi, il volume è lo spazio occupato da un corpo. L'unità di misura del sistema internazionale per il volume è il metro cubo. In chimica, però, si è soliti utilizzare misure in centimetri cubi o decimetri cubi. Un'altra unità di misura utilizzata, che non è propria del sistema internazionale, è il litro. Un litro è, infatti, per definizione, il volume utilizzato da un decimetro cubo. Un'altra grandezza è la densità, che è definita come il rapporto tra la massa e il volume di un corpo. La sua unità di misura, per il sistema internazionale, è il chilogrammo su metro cubo, ma anche in questo caso, per la chimica, questa unità di misura è poco pratica e sono comunemente utilizzati i grammi su centimetri cubi o grammi per millilitro. Il peso specifico è, invece, il rapporto tra il peso e il volume e questo corrisponde alla densità per l'accelerazione di gravità. Se non ne siete convinti, lo vediamo subito. Abbiamo detto che la forza peso è uguale alla massa di un corpo per l'accelerazione di gravità. E se il peso specifico è uguale a una forza peso fratto il volume, andando a sostituire la forza peso all'interno di questa equazione, otteniamo che il peso specifico di un corpo è uguale alla massa del corpo stesso per l'accelerazione di gravità fratto il suo volume. Ma dato che la densità è uguale alla massa fratto il volume, possiamo dire che il peso specifico del corpo stesso è uguale alla densità per l'accelerazione di gravità. Ed è importante ricordare che sia il peso specifico che la densità sono delle grandezze intensive. Parliamo adesso di un'altra grandezza intensiva, la temperatura. Questa descrive lo stato termico di un corpo, ovvero la direzione in cui fluisce il calore. Quindi è importante capire che la temperatura non è una misura del calore che un corpo possiede. Caldo e freddo, infatti, sono sensazioni soggettive. Un oggetto ci sembra freddo al tatto quando il calore fluisce dalla nostra mano verso l'oggetto e caldo invece quando il calore fluisce in senso contrario. La misura della temperatura viene effettuata con il termometro e la sua unità di misura è il grado. Un termometro sfrutta la capacità del calore di trasferirsi tra corpi a diversa temperatura finché le temperature non sono diventate uguali. Per far questo si utilizza un liquido contenuto in un tubicino di vetro provvisto di un bulbo. Se il termometro viene messo a contatto con un corpo a temperatura maggiore, del calore si trasferisce dal corpo al liquido del termometro che, dilatandosi, aumenta di volume. Il contrario invece accade quando il termometro viene messo a contatto con un corpo a temperatura minore. I termometri vengono appunto graduati secondo diverse scale termometriche. Le più utilizzate sono la scala Celsius, la scala Fahrenheit e la scala Kelvin. Per quanto riguarda queste scale, le analizzeremo in un prossimo video. Ti consiglio quindi di iscriverti al canale per supportarci e non perderti i prossimi contenuti. E visto che ci sono ti consiglio di dare un'occhiata ai link dei nostri profili social. Trovi tutto qua sotto in descrizione. Parliamo adesso del calore. Il calore è un modo di trasferire energia da un corpo a temperatura maggiore a un corpo a temperatura minore ed è quindi energia in transito. Questa è una grandezza estensiva perché a parità di temperatura il trasferimento dipende dalla quantità di materia. Il calore si misura con il calorimetro e la sua unità di misura è il joule o joule. Comunemente viene anche utilizzata la caloria. Una caloria è uguale a 4,186 joule. È importante capire che fornire calore, cioè riscaldare, significa aumentare l'energia interna di un corpo. Mentre sottrarre calore, ovvero raffreddare, significa diminuire l'energia interna di questo corpo. Detto ciò abbiamo concluso questo video riguardo le misure. All'interno dei prossimi vedremo che queste non sono mai perfette. Esistono infatti dei margini d'errore e per questo delle cifre significative. Ti consiglio quindi di iscriverti al canale e se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo biologico e scientifico, seguici su Instagram e Telegram, hai link che trovi qua sotto in descrizione. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto da About Biology. Grazie per l'attenzione e a presto.